Denmark, da tratti primi, edito Arcipelago Itaca Edizioni La gente per le strade quasi ti sorride, niente fa troppo rumore, hanno i capelli chiari, i vestiti neri e molta paura della morte, com'è normale oggi. Finché reggono le gambe, girano i pedali delle loro biciclette, i vecchi sono tolti alle famiglie per evitare incomprensioni, giovani infermieri li tengono per mano, e con tutte le attenzioni del caso, coi capelli chiari e i vestiti neri, la gente per le strade sorride, senza pensieri. Cesare Pavese, da lavorare stanca, l'ultimo estratto dei mari del sud. Un profumo di terra e di vento ci avvolge nel buio, qualche lume in distanza, cascine, automobili che si sentono appena, e io penso alla forza che mi ha reso quest'uomo strappandolo al mare, alle terre lontane, al silenzio che dura. Mio cugino non parla dei viaggi compiuti, dice asciutto che è stato in quel luogo e in quell'altro, e pensa ai suoi motori. Solo un sogno gli è rimasto nel sangue, ha incrociato una volta da fuochista su un legno olandese da pesca il cetaceo, e ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole, ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue e inseguirle, e innalzarsi la coda e lottare alla lancia. me ne accenna talvolta, ma quando gli dico che egli è tra i fortunati che han visto l'aurora sulle isole più belle della terra, al ricordo sorride e risponde che il sole si levava che il giorno era vecchio per loro.